nome marco francesco robertta cognome passarani russo di donna anni 32 25 23 soprannome nano ciccio robert nano cantaci una canzone o come palla o come palla o come abbascia la marina svenno un pesce giro giro tondo casca il mondo qual è la pazzia più grossa che hai fatto fare questo lavoro pazzia più grossa che ho fatto è stata fare l'animatore la prima volta a quanti anni 14 25 10 minuti fa 16 l'ultima volta quando 7 8 minuti fa dieci minuti fa l'altro ieri fai una risata saluta gli amici della fanpage ciao fanpage un bacione dal vostro nano ciao fanpage ci vediamo su facebook ciao ragazzi ci vediamo in i villaggi blu serena bello serena bagli Sous-titrage ST' 501